buonasera a tutti dal canale da ioio buonasera a tutti sono ospite del canale questo è un amico importante da amici l'amico da amici salve a tutti aspetta sei registrati sì sì ok allora buongiorno a tutti allora questo è un video che lavoro fai pasticcere come sei arrivato a fare questo lavoro fanno rispondi prima vabbè fanno rispondi che lavoro fai e poi se c'è il lavoro del merdo e fagiano che lavoro fai no buongiorno oddio che stavo sul video sul canale come sei un cazzo lo dettaglio niente praticamente andavo a scuola andavi a scuola mazzolo continuato praticamente oddio io sto morire ma no l'ascolto andavi a scuola vabbè facciamo chimica e microbiologia ma davvero ti c'è interessa perfetto sei fidanzato o sposato boh ma pure boh ha capito fidanzato come oddio io teoricamente sono fidanzato praticamente faccio finta di non essere oddio mio oddio mio vabbè la volta ai figli come dei perpetti come dei perpetti hai fitti si una magnifica bambina di ti fa piacere una pavanti sogni per il futuro beh sogno un mondo senza guerra senza fame nel mondo senza pace è giusto così siamo avanti senza trap hai uno sport che fai? eh sì fondamentalmente sono lo sportivo la battaglia io sono cintore sono cintore il cintore il parcheggio hai fatto squadra? no non l'hai fatta perché pensieri sulle nuove generazioni sono cose belle sono tutti ritardati sono cose belle piatto preferito? la porchetta se lo sappiamo grazie signore un applauso per la porchetta bravo 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 da dove viene la porchetta una domanda extra beh si ma cerca di articolare un po' e risponde scusami da riccia? no particolarmente da che via? visto che è sbagliato perfetto è sbagliato non mi frega un cazzo la scendiamo signora l'ongare cosa avresti voluto fare che cazzo c'è? nella vita a parte il tuo lavoro ho l'ifanzo ecco io sei dotato questa è una domanda mia personale ragazzi mamma mia io vado a cantiere lo usavano come metro ragazzi chiamate 382 999 risponde gayline gayline meraviglioso un pensiero proibito ragazzi questa è una domanda ah ma stai già a fine accattivando questa è un'intervista fast mi avvalgo della facoltà di non rispondere no 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 ragazzi c'è un'intervista ma perché è un pensiero proibito Daniele Daniele ce l'ho io ce l'ho io scusami si ti dovresti definire e con un metro come di terminare così così vai un viaggio che faresti questa è la più noiosa New York alla data ce ne frega un cazzo salutare tutti adoniamo l'anima o salutare mamma ce ne frega un cazzo grazie ragazzi ciao mamma ciao mamma grazie a tutti arrivederci saluti al canale saluti al canale saluti al canale di Aglio Oli seguitelo tutti l'opportunità di essere con lui ma chi se ne frega